Serpente spirale Questo serpente spirale è un giocattolo incredibile. Ti servirà un filo, perline, una matita, cannucce colorate e una forbice. Avvolgi un filo lungo 50 cm su una matita rotonda per creare una spirale. Fai scivolare via la spirale. Estendi la spirale. Fai ondeggiare i pezzi di cannuccia sulla spirale. Attacca una perlina ad un estremo. La perlina eviterà che i pezzi di cannuccia fuoriescano dalla spirale. Il serpente spirale è pronto per girare. Mantieni il giocattolo in verticale. Osserva i pezzi di cannuccia scivolare giù come cristalli liquidi. Grazie. 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 Grazie a tutti